Ciao a tutte ragazze e benvenute in un nuovissimo video. Oggi vi andrò a parlare di un prodotto che mi è stato inviato gentilmente da un'azienda. Il nome in questione è il Cocoa Lux. Questo prodotto mi è stato mangiato qualche mesetto fa e l'ho provato, l'ho testato e adesso voglio parlarvene. Di questo prodotto vi ho parlato anche su Instagram dove vi ho pubblicato alcune foto. E ovviamente se non mi seguite là andatemi a seguire, tanto trovate tutto qua sotto nell'info box e ovviamente trovate i link sul mio canale. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina così non vi perderete alcun tipo di video. Inoltre vi ricordo anche nuovamente di seguirmi su tutti i miei social, compreso sulla mia pagina di Facebook, dove là pubblico in genere molti molti shooting di moltissime ragazze, quindi vi invito a seguirmi anche là. Prima di iniziare però ci volevo dire un'altra cosa, ovvero che siccome andrò a trattare varie cose rispetto a riguardo appunto del Cocoa Lux, dividerò questo video in vari punti. E ovviamente vi lascerò qua sotto nell'info box i vari minuti affiancati a cosa andrò a trattare in quel determinato minuto, così magari se quel punto non vi interessa potete andare tranquillamente all'altro punto che magari vi interessa di più. Adesso, bando alle ciance, inizio a parlarvi del Cocoa Lux. Questo è il Cocoa Lux di cui vi parlavo precedentemente e innanzitutto il pack. Il pack non mi fa impazzire, infatti lo hanno cambiato e adesso è tutto rosa oppure tutto azzurro. Comunque di questo prodotto e del loro sito vi lascio tutto qua sotto nell'info box e potrete trovare anche il codice sconto che se non sbaglio è Lish Beauty 20. Comunque vi ripeto, ve lo scrivo tutto qua sotto nell'info box e nel caso ve lo scrivo anche da qualche parte qua nel video. Questo prodotto che cos'è? Questo è una cioccolata in polvere e il sapore mi piace da impazzire, sa proprio di cioccolato e secondo me è un ottimo prodotto da gustare in inverno. Questo cioccolato in polvere è un integratore per capelli e per le unghie. Questo promette di allungare tantissimo i capelli e allungarli molto molto velocemente e promette anche di rendere i vostri capelli più voluminosi, più lisci e più morbidi. Allora, questo prodotto come ho già detto prima l'ho provato tantissime volte e l'ho fatto solo con l'acqua, però voi potete anche allungarlo con un po' di latte, latte freddo oppure latte caldo. Ovviamente vi starete chiedendo funziona davvero questo prodotto? Allora, io devo dire che l'ho provato per moltissimo tempo e il gusto come ho detto prima mi piace da impazzire, è troppo buono il gusto e devo dire che funziona perché in poco tempo mi ha allungato tantissimo i miei capelli. Ovviamente non è che fa miracoli, però comunque secondo me funziona veramente perché in poco tempo mi ha allungato tantissimo i capelli e ve lo posso assicurare. Tengo a precisare però che i miei capelli tengono a crescere molto più velocemente. Però con questo prodotto ho notato che i miei capelli sono cresciuti veramente tanto tanto e molto molto velocemente e mi li ha resi tanto morbidi e tanto lisci e tanto luminosi. E quindi tengo tantissimo a consigliarvi questo prodotto. Ovviamente questa è la mia opinione, sono i miei fatti, questa è la mia esperienza, quindi anche se questo prodotto mi è stato omaggiato dall'azienda, ovviamente se mi ci sono trovata male ve lo dico, se mi ci sono trovata bene ve lo dico. Non voglio dirvi cose che non sono quelle, anche perché questo non è nella mia indole. Comunque, ora voglio dirvi anche un'altra cosa, ovvero che questo prodotto lo dovete bere o tutti i giorni oppure anche due o tre volte a settimana e lo dovete prendere per un mese. Infatti c'è scritto qui che questo prodotto è tutto per un mese e poi c'è scritto anche tutto qua dietro, cosa dovete fare e però c'è scritto in inglese, però vi assicuro che è capibile. Adesso lo andrò a fare insieme a voi, andrò a farvi vedere come fare questo prodotto, come berlo e prima però volevo dirvi anche un'altra cosa. Poi ci tenevo a dirvi anche che per le unghie, per le unghie non so se funziona perché ovviamente io me le mangio sempre e quindi non ho potuto valutare se questo prodotto funziona anche per le unghie. Però se lo volete acquistare, vi lascio come sempre, come vi ho già detto, qua sotto nell'info box i loro link e i link della pagina di Instagram perché sono anche là su Instagram. Comunque li potete trovare tranquillamente digitando Cocologs. Là su loro sito non hanno solo questo prodotto ma hanno anche svariati prodotti che non ho avuto l'opportunità di provare però dal pack e dalla descrizione sembrano molto molto buoni. Comunque ho visto molte recensioni su questo prodotto e ho visto che hanno funzionato appunto anche a loro quindi se volete provarlo secondo me dovete farlo perché è veramente veramente molto molto buono. Invece per quanto riguarda i prezzi, i costi eccetera, questo prodotto costa all'incirca tra i 20 e i 25 dollari e in euro quindi saranno all'incirca 25 euro, non di più. Comunque se ci temete, ripeto, ad acquistarlo utilizzate il mio codice sconto così magari lo pagherete ancora meno. Tengo a precisare anche un'altra cosa che questo prodotto è senza glutine quindi per chi è intollerante o allergico al glutine può tranquillamente utilizzarlo e provarlo. Adesso vi lascio alla mini clip in cui preparo con voi il Cocologs. Spero che questo mini video vi piaccia e ci vediamo dopo per i saluti. Come prima cosa vado a mettere un po' d'acqua. Voi potete, come ho già detto precedentemente nel corso del video, potete metterci o latte oppure un po' di acqua calda, acqua fredda, latte freddo e voi appunto tra queste cose potete tranquillamente scegliere. In base alla quantità di acqua che avete messo, adesso la vado a mettere poca perché è tardi e non è che mi ci vada più di tanto la cioccolata calda, allora vado a metterla poca a poca. E insieme all'acqua vado subito a mettere il mio Cocologs. Questo è il mio Cocologs terminato e deve essere denso, deve essere un po' liquidino. Allora ragazzi, il video è terminato, spero che vi sia piaciuto, soprattutto che vi abbia tenuto compagnia. Se è così lasciate tanti pollici in su e lasciatemi anche un commentino qua sotto scrivendomi se anche voi avete provato come me il Cocologs e altrimenti se vi piacerebbe acquistarlo. Fatemi sapere anche attraverso nei commenti se utilizzerete il mio codice sconto per provare il Cocologs. Prima di salutarvi però vi ricordo nuovamente di scrivervi tutti i miei social, compreso Instagram dove là sono molto molto più attiva. La pubblico in genere molte molte foto quindi vi invito a seguirmi anche là. La interagisco anche con voi, rispondo alle vostre domande o almeno ci provo. Comunque ragazzi, adesso vi saluto, anzi io e il mio Cocologs vi salutiamo, adesso mi metto a gustarmi il mio Cocologs. Vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo in un prossimo video. 8 Ciao ! 9 Grazie a tutti.